ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo batboy settings volume 1 linguaggio vediamo se c'è italiano portoghese francese tedesco giapponese inglese spagnolo francese giapponese english non c'è l'italiano ok salva ecco volume 1 vediamo se si può mettere volume 1 e play anti normale speed run show global time and skip conversation cutscene no voglio giocare quello normale o sono riosuke uno studente del liceo mio padre questo è il mio best friend e sa chi will always ride bike together after school gli piace giocare con le biciclette al serve in other friend always hang up with it we all love sport ok during the day we got to the school have fun and play sport but at night ma la sera siamo spot skill visit up ah vabbè la sera diventa no durante il giorno gli piace che fanno sport sono bravi studenti la sera la notte combattono e diventano degli eroi usando le abilità che degli sport che fanno ok va bene andiamo bad boy ok premuto invio eh non è che abbia fatto chissà che io ho avviato da baseball ok vsd s questo rumore www s w w alza allo sguardo destra sinistra space, control invio, click vabbè, niente shift, control, niente la Q va indietro uguale a A? sì, uguale, va bene capitano asso identificati questa dimensione è cambiata spesso l'ultima mia visita ok, Halloween non è ancora tempo di Halloween dice, aspetta un secondo che cosa intendi questa dimensione non sei troppo sveglio non sono troppo sveglio vabbè, comunque questa è chiaramente eccellente gli rispettivi sport va bene, sì sono eccellenti degli sport ah, c'è pure il giocatore di basket vedo una palla ok, sì si, master ok ora con slow come on in ok you don't need to be a genius to realize you are outnumbered vabbè, fuori il numero aquaria never underestimate metti your opponent and indeed pigiama payamas o pigiama ho detto pigiama io va bene qua tutta la lore che ci dice ah su su batti i becchi muahaha con la risata finale classica ok vabbè creepo i veri non ho sentito abbastanza è tempo di calciare qualche culo così c'è scritto ah no di calciare il tuo di deletano nella tua dimensione no 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 azaro azaro vabbè imparerà sono mezzanotte un quarto che colpo non c'è bisogno di altro ok free to go shield in red io sono libero di andare il resto view with me ok shinaigai acquaria racket girl wait aspetta cosa state facendo tutti ok andiamo batboy e ora adesso mai più e scelgo ora va bene dopo quest'intro arriviamo in una cave con un pipistrello tu intruso tu intruso qua che cosa intruso è tempo di essere di questo cielo di mimics di se people say muori aspetta un secondo ho premuto spazio io ma non so se sono stato io oppure no stai bene piccolo ragazzo o no penso che l'ho colpito troppo forte sono cinque minuti mamma what sei bene sì perché sei così rosso I did you lose your sunscreen ah hai versato crema solare cosa mi lord vicius conosci no ma alcune ragioni ho questa memoria vabbè penso che gli ha fatto il lavaggio del cervello come ha fatto ai suoi amici forse tu vuoi nuove memoria guarda maybe I don't va bene va bene tanta 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 scritta inizio vorrei giocare però sei minuti di intro madonna mia sette quanto stiamo ok garu nice to meet you garu but I have to find my friend now hey can I join you I don't know anybody else here anyway vabbè ci unisce a noi ok è deciso allora andiamo ok non però allora non si può saltare non si può fare iniziamo a capire i tasti rt fg z1 p l non fanno niente la s fa questo z z niente caps look tab vabbè andiamo c'è una cosa lì penso che mi fai il tutorial ecco mi faccio a saltare come si fa come si fa signori come si fa dove sono opzioni non c'è button mapping jump space però non salta j attack con j che tasti sono j k i j k i u o alfa 1 alfa 2 che cazzo che tasto è alfa 1 alfa 2 ma non fa niente comunque signori io premo space ma non spesa siamo rimasti qua fa solo sta cosa ehi j k l o u i u z u v space ma non è che ha preso il joypad si ha preso il joypad ok aspettate aspettate un attimo ha preso il joypad ok va bene allora a salta b non fa niente x fa questo y non fa niente r r l ok va bene non fa niente prendiamo questi prendiamo questi colpito oh ecco aia fa male quello ah c'è il salto più lungo no sono caduto ok va bene ho finito il livello no stai zitto cos'è questo cos'è questo coso ah ci fa saltare di più in alto è questo no andiamo in sopra cosa abbiamo qua un lanciapalle posso lanciare le palle indietro sì sì perfetto ho preso una cosa aspetta che forse c'è un livello nascosto lì aia ho sbagliato infatti sapevo che c'era un livello nascosto allora ah no ho sbagliato questo devo premere lo slufoni per prendere la cassetta ok ma dò dall'inizio ah non è tanto bello dall'inizio vabbè dall'inizio questo cos'è niente 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 ok ciao va bene ma no ma ci sono le cose allora vediamo se ce la facciamo allora va l'ho presa ok ora saliamo di qua e questo si deve smeshare sì smeshiamolo questo cos'è il save ah ok il checkpoint abbiamo una videocassetta ah ok come facciamo il rampino lì c'è da fare il rampino no no sto prendendo i tasti però il rampino io non lo vedessi no cos'è il movilista ah ok vediamo questo 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 no movilist muovi questo attacchi e il salti e il rampino vabbè niente diamanti ah incominciamo i platform quindi là devi saltare nelle cose questo cos'è ammazziamo sono un cretino volevo prendere tutti i diamanti ma quanti ce n'è oh ah ho fatto l'unplay ok occhio al maiale clip tieni va ok sto coso qua che non si capisce tanto bene però facciamo così c'è il checkpoint posso saltare ancora più in alto ci buttiamo in the cavern vaffangulo vabbè ciao vedi adesso lì come ci facciamo arrivare sono un piccio cosa vuol dire piccio ah vedi là c'è il rampino però non me lo fa fare il rampino non c'è nessun tasto per fare il rampino volevo fare il rampino io madonna mia sto coso io non l'ho ancora capito le tarta tarta che cos'è brutta pepe 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 tante tizio vabbè qua cade qua sopra e fino a qua ci possiamo stare poi qua io cado sempre perché ancora non ho capito come si fa qua lo uccidiamo qua cadiamo sulla tarta scendiamo dovevamo scendere ma non ce l'ho fatta ok andiamo di qua aspettiamo che arriva va bene nel frattempo ci riprendiamo e voilà quanto è lungo il livello ma non l'ho capito non l'ho assolutamente capito cosa è successo madonna mia io mi impanico in queste cose qua mi impanico quando devo stare così i platform proprio non è il mio genere facciamo uno strike di due no non lo fa vabbè abbiamo provato sè ciao domani va bene dai niente sono handicappato non ce la faccio più bene perfetto è stato bello ok ce l'abbiamo fatta bruttissimo quel cosa che devi fare in quel modo ma ma stava volando manca per i post 3 e 5 quanto è infinito e va vaia va lancia la pallina bello questo qua mi piace questo non mi piace più questo qua se noi facciamo così dovremmo esatto ora facciamo così no così da zitto ok 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 qua non lo so ok ciao da fatto oh oh un checkpoint 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 bello ci possiamo saltare sopra non lo sapessi bello il battitore ce la facciamo dici secondo me no e mo come facciamo andare dall'altra parte sapevo io che dai niente niente diamante non l'ho capito allora allora hold su while batting to swim direction ahhh da dirlo prima qua è da fare così no non era da fare così è da dargli un colpo va bene da capo da capo te ok eh ho solo un pirla ok lì non ci arriveremo mai vabbè no comment no co questa proprio da deficiente va bene ok saltiamo e battiamo batta batta e non possiamo andarci da lì ok allora salto salto swimmo e uccido ok ahhh ah ma quella è una pianta non è un rampino il posse so you are finally here si ce l'ho fatta e riconizzi you ahhh lord vicious enchantment garefulli batta bo anzaros and jet like tus picio cincio va bene vai vediamo cosa dobbiamo fare io salgo qua sopra intanto risalto qua sopra lancia la pallina sono un pirra ma posso rimandargli indietro secondo voi ok cioè io ho pensato di dargli un colpo di bastoni nella testa però non ce l'ho facuta devo capire no non la voglio fare praticamente o qualsiasi cosa tu tocchi di lui ti prendi danno cioè anche se tu gli devi un colpo no ok vai salgo qua sopra lui fa così lancia la pallina no questa la pallina vabbè lancia questo perfetto lancia la pallina no la lancia si l'ha lanciata va bene la meccanica l'ho capita è anche abbastanza semplice praticamente ok ok 4 hit li abbiamo fatti e se saltiamo ci andiamo da dietro lo colpiamo da dietro vabbè qua non ci arrivi ok è fino a qua ci siamo se noi saltiamo no subito ti attacca lui ma vi ho dato un colpo però siccome l'ho toccato col corpo prendo danno va bene dai lancia sta cosa non fa niente quel coso lì salta no non me lo aspetta pensavo che saltasse sarà lunga e tediosa diciamo strike 14 madonna mia quanti strike che m'ha fatto dai lancia vabbè ma in testa non dovrebbe farmi male cioè ci sono saltato addosso vedi no io non l'ho toccato si vedeva proprio cioè mettete pausa lì e vedrete che io non lo tocco a lui c'è tanto di spazio dai lancia sta cosa perfetto ma mannaggia lancia sta cosa perfetto salta perché non è saltato pensavo che saltassi io ma adesso lancia le palline prima salta poi lancia solo le palline maneretto mannetto mannaggia a te vabbè andiamo con la calma aspettiamo solo le palline saltiamo potevamo dargli un colpo però lancia la cosa ascure qua la sua arma adesso salto io un colpo te lo do un colpo te lo do un colpo te lo do via via dobbiamo andare così va bene via madonna mia ok ci avrà una fase dici aia salta salta ah mi sono visto morto ma no cioè quando non doveva saltare avevo trovato una tecnica diversa no dici a sette dai che è il mio numero fortunato vai non moriamo subito vabbè vabbè va è andata tutta male sta cosa io volevo mettermi qua così lui salta esatto e ci vado dietro avanti diciamo così forse riusciamo nanchananana adesso lui si muove va si è fermato mentre si stava muovendo si è fermato dai 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 dici diciotto 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 salto è un colpo ah te lo potevo dare però no dai salta vai salta prima però salta ma nooo dovevi saltare perché si è fermato poi io bestia che ci vado sopra diciannove diciannove ah bravo bravissimo bravissimo intelligentissimo 3 2 1 3 2 1 saltiamo ecco scendiamo dietro 3 2 1 sbagliato 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 prendiamo dietro e a un colpo glielo diamo 3 2 1 saltiamo probabilmente è una rincorsa ritorno una bastonata dietro che lui è più lento di me via l'ho fatto sfasare per un attimo troppo troppo in ritardo troppo 3 2 1 via ma nooo che ti ferma quando si ferma che non lo capito ne do due di colpi immaginate pensate alla mia faccia con quella pallina di cacca che mi ha tirato va bene dai triggeriamolo lui fa così adesso andiamo addosso eh cioè la cosa più semplice è la pallina io l'ho prese tutte in faccia me le sono prese 3 2 1 saltiamo no lo chiappiamo proprio nel sedere pam a colpi di bastonate 21 signori dai ma bambala ma bambala proprio è quando si ferma che dà fastidio no si vedi quando si ferma tu pensi che sta andando avanti però lui poi si ferma di botto ci vai addosso e prendi il 22 ok qua lo potrei colpire però sai sto pensando a sta cosa quando lui lancia la scura io potrei fare così si si può fare mi sono fatto malissimo però ok aspettiamo nooo l'ho ucciso l'ho ucciso no ma dai l'avevo ucciso voglio il replay salta e mi ha fatto male non so perché ma mi ha fatto male se io ci salto sopra e do i colpi li faccio male vediamo facciamolo lavorare vai salta saltata adesso lo stronzo quanto siamo 29 no 25 madonna vai mi sono anche fatto male non so come me lo sono fatto male però che ho trovato stata gliel'abbiamo data ah troppo vicino ma odio quando si ferma di botto è una cosa terribile ce la devo fare ce la faccio e poi chiudo il grand play eh vai tanti poi non salti più perché mi sono colpito da solo cioè ma mannaggia a lui quando salta ma quella cosa lì è micidiale è stupida ma micidiale 27 qua ho saltato troppo lì lì lo lì lì il lì 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 Ok, vai Ma... Ma l'ho ucciso! Ma mi prendi in giro! Ok, vai Tanti non mi vede e non si triggera Vai Beh, eccolo, sapevo io che saltava Quattro colpi te li do lo stesso No, schifo stavolta Vai Vai Un colpo te lo do, men, ragazzi Troppo lento Madonna mia, finalmente Signori Abemus uccisum Oppure un achievement Just like my master anticipated You have it In you Che cosa stai dicendo? Dove sono i miei amici? Buon tempo Tutto a giusto tempo Until we meet again Adavode E se n'è andato Cosa intendeva con quello? Qualche idea dove possiamo iniziare a guardare per i miei amici? Lord Vicious ha detto qualcosa circa Mandare il grande kimono Fella tu The frozen beak Shinai guy He better gone than Bah, 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 bah One more thing Se bla, bla, bla Another memory Ok Va bene Butt beeps That's fine Questo Per cambiare Butt spin Tieni premuto Questo Caricare le butt spin Rilasciare S E jump No? Come? Cioè Premi questo O forse è così Mantieni premuto Questo No, non l'ho capito Mantengo Scusate Questo è il butt spin Fico Avete capito Però non posso salire Ah Ok Bene signori Mi sono dilungato anche abbastanza Grazie a tutte le morti che ho fatto Ma non è un problema Questa è una preview Come tutte le preview Non lascio nessun feedback sul gioco È una preview del mio canale Non una preview del gioco del rilascio Quando è stato rilasciato Eccetera eccetera Nel mio canale È vero che non ci ho mai giocato E quindi Lascio a voi Decidere se vi piace oppure no Grazie di essere stati con me Spero vi sia piaciuto il video E spero che avete capito di più Molto da questo gioco Vi lascio il link di Steam In descrizione Per supportare il canale Come sempre Lasciate un like Un commento E se vi va Scrivetevi Iscrivetevi O scrivetevi Vedete voi come volete pronunciarlo Per me è meglio forse Iscrivetevi Ed Alla prossima E come sempre Siete mitici Bye 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 Grazie per la visione!